Mi sento di dover rendere parte in modo attivo, nel senso comunque di non restare indifferente a quello che vedo, a quello che succede. Un contributo sentono di poterlo offrire alla società. Sono loro i nuovi maggiorenni che tra preoccupazione e speranze sognano anche di aiutare il prossimo. Non per tutti l'indifferenza è la regola di vita, bensì rimboccarsi le maniche e guardarsi intorno. Aiutare le persone in futuro è una delle cose che vorrei fare. Se tutti pensiamo di avere un ruolo importante all'interno della società possiamo arrivare a grandi livelli. Tra le loro aspirazioni è contemplata la solidarietà. Fai volontariato? No, io non faccio volontariato ma ammiro chiunque sia in grado di farlo. La solidarietà diciamo che c'è sempre tra persone, soprattutto fra noi giovani, anche se non sembra. Attraverso un esperimento personale, quindi vedere quali sono poi le mie capacità, cercherò di dare un contributo al mondo. Sento il dovere di impegnarmi a livello sociale, però devo ancora trovare il modo di farlo. Ma c'è chi un modo per aiutare l'ha già trovato, come queste 80 persone che in mattinata a Roma si sono ritrovate al Colle Oppio, simbolo sia di degrado che aiuto umanitario, per ripulire il parco. State offrendo il vostro contributo per la vostra città, perché? Perché è importante, si riempie di significato quando le persone prendono parte attiva alla bellezza della città. Mi sembra giusto ripulire un po' la città. L'impegno di Retake è proprio questo, restituire bellezza a luoghi colmi di storia, ma spesso abbandonati all'incuria. E lo fanno includendo anche gli assistiti della Caritas. Potranno imparare il mestiere del giardiniere e quindi poi magari spenderselo in futuro, per avere qualche possibilità in più nella vita. Come sta andando? Benissimo, hai visto quanta gente c'è? Bellissimo collaborare tutti insieme, tutte le persone a cui potremmo dare un altro tipo di vita.